Come rugiada sulla pelle, brillano le creazioni più esclusive. Una proiezione di bellezza ed eleganza dal carattere unico e sorprendente, proprio come te. Laboratorio Orafo Ametista. Concessionario ufficiale 1R Lefedi, gioielli Armonie Villa Reale, orologi Pierbonnet, Armani e tante altre marche. Cornice e bigiotterine argento, riparazioni orologi, saldature oro, argento e acciaio. Su ordinazione gioielli personalizzati, info 339 20 62 044. Laboratorio Orafo Ametista, via Filippo Turati 89, a Melito Porto Salvo. Dai valore al tuo tempo.